Sono Luca Bargigia, sono arrivato mercoledì e so se è un caso o qualcosa che mi ha fatto una gran partita e penso che la vittoria mancava da un po', non mi sbaglio, e è venuta contro una grande squadra, la seconda. Come hai visto i tuoi compagni di squadra, oltre a chiederti naturalmente come ti sei capito giusto in questa nuova dimensione? No, no, li ho visti molto bene perché giocare in casa in una squadra così forte, piena di attaccanti, che costa molto, li hanno pagato molto, e fare un risultato del genere anche dopo che, dopo l'1-1 di solito una squadra in fonda classifica crolla invece, ci siamo tirati su, dopo pochi minuti hanno subito, quindi molto molto bene. Oggi praticamente, come dicevo, il mister ha fatto un po' da schermo davanti alla difesa, no? è un ruolo che preferisci questo oppure hai altre caratteristiche? Col Delta forse giocavo un po' più avanti, se ne ricordo male. Beh, col Delta, metà stagione l'ho fatta lì perché è quando c'era Tiozzo, quindi sono abituato. Poi abbiamo avuto un po' di cambi allenatori, quindi ho fatto anche la mezzala, però mi piace giocare a me. È un ruolo tuo specifico? Sì, sì, mi piace molto, poi posso fare anche la mezzala, per carità, però no, no, Mi piace. Ma già questa squadra può andare a salvezza? Sì, a me sì, indifferentemente, anche se oggi perdevamo o pareggiavamo, però secondo me sì, o play out o non play out, comunque io ci credo. Del resto non avresti neanche accettato di migliorare. Vabbè, sì, arrivare a una squadra che già pensa di retrocedere. Senti, la domanda che ti avranno fatto tutti, non mi ingombrano se vogliamo, o no, dipende da che punto di vista, mi ti sarei un po' consigliato a tutto la parola, per venire qua, sì. Sì, beh, io stavo a Ischia, in Tecranici, e ho fatto cinque presenze, due in Coppa, e poi vabbè, lì ci sono stati anche, oltre il fatto che non giocavo tanto, altri problemi, e sì, sì, ho consigliato, sì, poi qua comunque è una bella società, seria, e sono motivato. Magari sono appena qualche giorno che sei qua, è anche una bella città, insomma. Sì, sì, sto a Chioggia Sottomarina. Scapolo? Sì, è ancora presto. Adesso guarda il giro. Vediamo subito che sei disponibile. Andate, guarda presto. Ok, bene. Ok, bene.